E quindi, ragazzi, mentite, ok? Ma con parsimonia e con cognizione di causa, perché una menzogna può salvare anche una vita, come insegna l'ospedale di Torino. Manzogna. Sono arrivato. Sono arrivato. Sono arrivato. Sono arrivato, bro. Manzogna. Bro, bro, che cosa va? Ci sei, bro? Ti prego, ricomponiti, lo so. Manzogna completamente andato, subito dopo. Bro. Io non so cosa volessi fare, perché c'era un'intenzione all'inizio. Volevo dire. No, è più stupido predirlo adesso. No, lasciamo perdere. Va bene così. Sei finito Marco ormai? No, no, no. No, anzi. Siamo solo all'inizio, secondo me. Simpatico martello. Eccoci qua, ragazzi. Siamo ritornati con le polter news. Ho avuto un piccolo momento. Ok. Come va, bro? A posto. Una sigaretta? A posto, a posto. Voi dell'eroina? No, mia. A posto. Ok. Quando vuoi andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok. E' bellissimo. Le mansogne. E ci vorrei un'altra. Una mansogna può salvare anche una vita, come insegna l'ospedale di Torino. Mansogna. Mansogna. Oh, cazzo. Porco Dio. Un male dietro la testa. Volevo semplicemente dire. Le mansogne sono come le zampogne. Oh. Quindi era un po' una piaga piada. Sì. Un revisitato. Sì, ma invece di mansogne. Mansogna. Ma poi qua già non è l'universo. No, non eri qua. Non eri qua. Insegna l'ospedale di Torino. Cos'è? Poi devi farlo bene tu. A dare a karaoke. A karaoke. Ma com'è possibile? Insegna l'ospedale di Torino. Vedi? Ma... Ah, ma è in delay. Cos'è? Perché una mansogna può salvare anche una vita, come insegna l'ospedale. Ditelo voi. Mansogna. Guardate, guardate. Vai, di Torino. Mansogna. Vabbè, state così fottute. Vabbè, vabbè. Ok. Ok, ok. Mensogna più zampogna. Marco, vorrei che si spiegassi il processo creativo. No, ho semplicemente sbagliato. Volevo dire mensogne. Sono come le zampogne. E invece è uscito mansogna. Mansogna. Siamo già alla dodicesima live in cui si parla di provola, corde di salame, mansogna, piaga, piada. Alcune cose sono proprio inspiegabili. Ti consiglio di rimanere qua. Se non vede la clip di mansogna non può fidelizzare. No, no, no. No, no, no. Facciamo contente quei 3-4 decerebrati che sanno tutto quanto. Tutti gli altri che guardano dicono boh, vabbè. No, no, no.